Uno dei più eleganti orologi di quest'anno da parte di un micro brand italiano, Venezianico. C'è in 36 mm o 40 mm, per accontentare tutti. Minimalismo alle stelle, anzi ai buchi neri, proprio come piace a me. Elegantissimo, grazie appunto al suo nero, che più nero non c'è. Il tutto per 500 euro. Che altro chiedere di più? Ciao, sono Jack e benvenuti su Into the Limelight. Venezianico è un ricco brand italiano che ha già 6 anni di età. Tanti modelli sono già usciti, di cui ne avevo già recensito uno, il Nereide GMT, che lascio qui sopra il link per vedervi pure a quella recensione, se l'eravate persa. Molti i loro modelli sono sportivi, ma ce ne sono altri eleganti. Questo nuovissimo Redentore Ultra Black rientra in quella categoria. Ce ne sono molti di Redentore. Alcuni possono richiamare l'Acquaterra di Omega, altri quasi i Baltic. Questo Ultra Black è un caso a sé stante. Andiamo a vederlo in questo unboxing. Partiamo proprio parlando di questo quadrante pazzesco, che è re incontrastato di questo modello, e prendo direttamente dal sito di Venezianico. Questo orologio unisce minimalismo ed eleganza in un design senza tempo. Il suo quadrante color nero assoluto è il risultato dell'utilizzo dell'esclusiva vernice giapponese Mozo Black, che riesce ad assorbire il 99.4% della luce, regalando un'esperienza visiva indimenticabile. Questa vernice è stata sviluppata in Giappone dalla Koyo Orient Japan, ed è prodotta utilizzando tecnologie avanzate che ne garantiscono la qualità e la durata nel tempo. Le misure sono pressoché perfette per il mio polso da 16,5, ma anche per un polso un pochino più piccolo da 15,5. 36 mm di diametro per un lug-to-lug di 44,8, delle ottime proporzioni. Lo spessore è di soli 11,6, compreso il cristallo. Fate conto che un Datejust è 11,8 di altezza a 44,5 di lug-to-lug. Molto, molto simili, insomma. E la somiglianza non si ferma alle misure della cassa, ma anche alla cassa e alleanze stesse. Il tutto richiama un po' quella Oyster di Rolex. È alimentato dal superclassico Seiko NH35A, un movimento affidabile e robusto, basato sul solido calibro 7,6,26. Diciamo che è un aggiornamento, in particolare troviamo come differenze principali il fermo macchina alla carica manuale. Si tratta di uno dei movimenti automatici più popolari al mondo, ed è ampiamente disponibile in molti orologi a prezzi accessibili sotto appunto i 500 euro. Ha una riserva di carica di 40 ore. La prima negatività che alcuni potrebbero riscontrare è la prima posizione della corona, che è Ghost. E esiste ma non esiste, perché sarebbe quella del cambio data. Ma fortunatamente, per me, qui la data non c'è. Meglio che non ci sia la data, anche se c'è una posizione finta della corona, che se ci fosse stata la data, insomma. Sempre per me. In seconda posizione si aggiusta l'ora con il fermo macchina, e in posizione zero c'è la possibilità di carica manuale. La resistenza all'acqua è di 100 metri, perfetto per un utilizzo quotidiano, la stessa di un Datejust. Al contrario di un DJ, però, in questo caso, non c'è una corona a vite, ma a pressione. Il cinturino è in vera pelle anilveau? Bah, made in Italy. Ovviamente nero anch'esso. Ecco, non rientra proprio nei miei gusti, in realtà. Lo trovo un po' duretto... ...e un po' anonimo. Però è facile da cambiare, e con le Anse da 20 avete sul mercato tantissime opzioni diverse da questo. Per 85 euro in più si ha il comodo bracciale chiamato Canova, da Venezianico, già provato sul Nereide, con i link centrali molto lucidi. Ma io andrei su questo semplice nero di pelle. Per ora in preordine sul sito di Venezianico è 500 euro, e le spedizioni partono il 28 settembre. Personalmente mi sembra uno dei più bei orologi dress watch di un micro brand italiano che ci siano in giro. Ovviamente io sono il per il minimalismo, mi conoscete, e questo minimalismo estremo mi aggrada parecchio. Senza scritte tecniche o solo anche di brand, solo il logo sul quadrante, sulla corona. Logo che tra l'altro mi piace parecchio. Sta molto bene un elemento di metallo applicato su questo quadrante. E la cosa ovviamente più rilevante qui è il nero pazzesco del dial stesso. Mi ricorda i quadranti ionici dei bellissimi Rolex Day-Date o Dayjust. Le sfere sono bellissime, a contrasto con tutto quel nero a seconda di come prendono la luce, spariscono o si accendono. La cassa è ben fatta, rifinita al punto giusto con un perfetto mix di finiture lucide come sopra le anse, la lunetta e satinate lungo i lati. Questo mix è proprio il riassunto di un orologio che dovrebbe essere un dress watch, dato il colore, il minimalismo del tutto, ma ha anche un carattere un po' sportivo, semmai casual, se volete, con particolari satinati e con una bellissima cassa in stile Oyster che è un po' più sportiva che elegante, di solito. Il nero assoluto di questo quadrante crea un effetto ottico che elimina completamente le ombre, quasi onirico, un abisso infinito sul quale sporgersi per vedere a che ore sono, inquietante ma molto affascinante al tempo stesso. Il fondello è una grafica particolare che rappresenta un satellite nello spazio, tra stelle e pianeti, che per veneziani costa significare l'invito a esplorare l'ignoto, rappresentando l'immensità cosmica, come se ci si trovasse immersi in un mondo sconosciuto, dato dall'ultra black del quadrante. È un po' una storia tirata per i capelli, io avrei continuato sulla strada dell'ultra minimalismo lasciandolo completamente liscio e avrei solo scritto venezianico. Oppure ultra black, senza riferimenti a spazio, eccetera, satelliti, ma sono gusti personali. Detto tutto ciò, le mie conclusioni non potrebbero essere che super positive. Come ho detto prima, è un orologio elegante e moderno al tempo stesso, che colpisce l'occhio paradossalmente proprio cercando di scomparire nel nero più assoluto. Non ci sono che elementi essenziali per un orologio su un quadrante, per apprezzare al meglio l'ultra black. Orologio pazzesco, bellissimo e bravissimi ragazzi venezianico. Oltretutto disponibile in due misure, le più popolari, 36 e 40, per accontentare tutti. 500 euro ben spesi, secondo me. Che ne pensate voi invece? Scatenatevi qui sotto nei commenti. Alla prossima, ciao!